Ma lei ha una linea eccezionale, veramente tanto brava secondo me, perché unisce un po' la semplicità e il rigore, il bianco e il nero, delle linee molto semplici, ha invece un aspetto anche più romantico come queste gonne ampie. Ah, anche questa è una creazione. Vedevamo un numero a parte, cercavamo di capire perché è complicata. Quindi è una donna, insomma, proprio secondo me molto in linea con la donna moderna di adesso. Cioè che è una donna che deve essere intraprendente, rigorosa, professionale, ma nello stesso tempo dolce, buona, carina, compagna, una propria famiglia, eccetera, eccetera. E quindi secondo me questo connubio, diciamo, di idea, cioè di mettere il rigore, la semplicità insieme invece a una morbidezza, tipo il drappeggio, le cose sono veramente molto funzionali. Grazie. Grazie.